Siamo qui al valico di frontiera ungherese-ucraino a Barashgurani e gli autobus sono davanti a noi, autobus da diverse città e stanno arrivando i rifugiati. Siamo qui grazie agli ungheresi della Transcarpazia. Buona giornata, sono Laszlo Torokzai, il sindaco di Azottalom. Aiuteremo anche noi a portare persone a Barashgurani. Ecco perché siamo venuti. La Transcarpazia unghherese-ucraino al valico di frontiera di Barashgurani. Siamo venuti qui perché dal primo giorno della guerra abbiamo organizzato il movimento della nostra patria e la nostra organizzazione partner per aiutare i nostri compatrioti ungheresi in Transcarpazia. Abbiamo visto fin dai primi istanti che un grande aiuto alle famiglie, soprattutto per le donne e per i bambini che passano a piedi senza auto. A proposito, se stiamo parlando di questa guerra che sta succedendo qui ai nostri vicini, diamo un'occhiata dietro le quinte. Vediamo di cosa tratta veramente questa guerra. Parliamone nel modo in cui non parleranno in nessun media in questo momento. Dopotutto i media occidentali fanno propaganda di guerra, ma naturalmente anche i media russi fanno propaganda di guerra. Quindi vediamo cosa c'è dietro la guerra in Ucraina.